Buongiorno, il libro che vorrei presentarvi oggi, venerdì 4 dicembre, è Black Blues di Attica Locke, editore Bonpiani. Siamo in Texas e un ragazzino bianco scompare. Il padre è un importante esponente della fratellanza ariana, ora in prigione chiede aiuto al governatore. Viene inviato come supporto lo sceriffo locale, il Ranger Matthews, che è stato il protagonista del libro precedente. Il nostro protagonista si troverà in gravi difficoltà, intanto è un Ranger nero, in un Texas profondamente razzista. Il suo aiuto sarà determinante nello scoprire che cosa è successo a questo ragazzino. Il libro è interessante per scoprire le profonde tensioni razziali che esistono negli Stati Uniti d'America. Sottolineo che il libro è ambientato nel 2016, anno in cui un imbarazzante nuovo presidente degli Stati Uniti era stato eletto.